Come andrà, non ho la sfera di cristallo naturalmente, però volevo aggiornare il libro, ma è inutile farlo perché avevo già previsto quello che è successo, quindi non farò la seconda edizione del libro, a meno che succeda chissà che cosa di imprevedibile. Questa è un po' la sintesi finale con questa citazione che però dimostra quanto oggi davvero il mondo politico, la politica sia rapida, cambiamenti continui, non si sa quello che succederà domani, molto diversa dalla politica che ho frequentato io quando eravamo al governo, perché lì c'era un programma di legislatura, adesso è tutto diverso, non dico che era meglio e che adesso è peggio, no, è diverso, qualcuno la chiama terza repubblica, non lo so, è molto diverso, ma è molto interessante perché questa grande confusione per chi la vede positivamente genera tanti, tanti stimoli. Speriamo di aver fatto venire la voglia di leggere questo libro.